Mattia mi passi il formaggio per favore? Mattia? Mattia mi passi il formaggio? Mattia? Mattia? Che c'è? Sempre a rompere ooo Mattia abbiamo in mente un'idea per fare un video Praticamente possiamo fare Come un video di Toc di Ciali d'Amedio Ma dici? Ma sei sicuro? No non mi piace questa idea Cambio idea Mattia sbrigati pulisci i piatti che dobbiamo andare Sei sempre in ritardo se no Sì ora lo faccio One eternity later Oh guarda che devi scaricare Vabbè te lo fa Marco